Sono arrivati questa mattina, poco prima delle ore 7, presso il centro di accoglienza straordinario di Moscufo, il gruppo di 50 migranti partiti ieri sera da Porto Empedocle, in provincia di Agrigento. Il gruppo, la metà dei quali minori, è formato prevalentemente da nuclei familiari provenienti da diverse zone del continente africano, come Ghana, Mali, Costa d'Avorio e Liberia. Gli ospiti, dopo aver effettuato i test serologici risultati negativi prima di partire per l'Abruzzo, resteranno in sorveglianza attiva da parte della ASL per 15 giorni. L'obiettivo, si legge in una notte della prefettura di Pescara, è la sicurezza, anche sanitaria, degli abitanti di Moscufo, della provincia di Pescara e degli immigrati stessi. Per questo è stato attivato un unico posto di sorveglianza H24 da parte delle forze dell'ordine. Mi hanno rassicurato ieri col tavolo tecnico la presenza di donne e bambini e anche il controllo attento delle forze dell'ordine e poi la cosa migliore è che faranno la quarantena e poi saranno dislocati in altri centri d'accoglienza, almeno solo per 15 giorni. Poi le forze dell'ordine e la presenza ce lo garantiscono per 24 ore. Questa è la cosa che siamo riusciti ad ottenere ieri al tavolo tecnico. Il sindaco non ha altri poteri per decidere purtroppo, ci stanno organi superiori, il Ministero dell'Inter, ci stanno le prefetture, ci stanno la questura. Io non ho potuto fare altro che ascoltare e cercare di mediare per trovare un compromesso che sta più vicino ai cittadini di Moscovo e a Moscovo.